Musica Musica Ecco l'ennesimo episodio di autofinanziamento perché noi prendiamo piccoli finanziamenti dai cittadini restituiamo i rimborsi elettorali e poi soprattutto quando lo facciamo vogliamo anche passare un po' di tempo in amicizia con tutte le persone che ci sostengono Ci vediamo dentro, ciao! Musica Quattro giorni Prendiamoci Roma! Musica Prendiamoci Roma! Musica Prendiamoci Roma!